Salve cari amici benvenuti nel mio nuovo interattivo. Allora questa sera ho voluto fare un interattivo un po particolare, spero che vi piaccia, insomma è un esperimento e comunque prendiamolo sempre con molta leggerezza appunto come a scopo di intrattenimento. Allora qui ho preparato per voi sei varianti. Prima variante cuore rosso, secondo variante cuore scusatemi la lettera D, terza variante il cuore giallo, quarta variante il verde, cuore verde, quinta variante il cuore azzurro e ultima e sesta variante l'otto. Allora la domanda è pensa appunto a una domanda, voi dovete pensare a una domanda, non sapete voi la domanda che pensate. Il risponso sarà una risposta secca, sì o no, positivo o negativo, succederà o non succederà, insomma questa è la risposta. Allora la prima carta, ho preso una carta delle sbille italiane che ci darà più o meno, dico più o meno, una segnalazione del tipo della, cioè della tipologia della domanda, cioè ci andrà a portare un po' di riferimento al tipo di domanda che presumibilmente questa variante o questo o quell'altra, insomma una di queste variante dirà. Vi faccio un esempio, mettiamo che voi avete fatto una domanda su un amore perduto, ecco la prima carta dovrebbe farmi capire da quello che esce che questa domanda è riferimento all'amore perduto, se invece parla di lavoro vi dà anche un'indicazione sul come scegliere bene la variante perché è molto importante. Comunque la prima carta dirà l'argomento trattato, ovviamente sempre molto secco eh ragazze o ragazzi, la seconda è la terza carta che è appunto un arcano maggiore la prima carta e gli angeli rispondono, diranno l'esito. Allora vi voglio dire che voi potete anche fare più domande perché appunto l'argomento lo sapete voi e qui c'è soltanto un risponso negativo, positivo, sì o no, si farà, non si farà. Quindi potete fare una domanda che ne so per l'amore, una domanda per il lavoro, una domanda se farò un viaggio così, un'altra domanda se avrò una una somma di denaro, voglio dire le domande possono essere quelle che volete, anche più domande su più persone, per esempio se siete interessati a più persone. Quindi gestite voi la cosa. Allora io penso che nel frattempo insomma vi ho spiegato un po' come voglio impostare questo interattivo, voi più o meno avrete già deciso che appunto che variante scegliere, per quale ragioni. In ogni caso se non fate in tempo bloccate appunto il video e prendetevi tutto il tempo che vi serve. Va bene? Ok. Allora io inizio con la prima variante, il cuore rosso. Queste le allontano semplicemente proprio perché così voglio anche essere veloce in questa situazione e poi non voglio sbagliare con la numerazione delle domande. Va bene? Allora prima variante, cuore rosso. Voi avete pensato la domanda, adesso vedremo quale sarà la risposta. Prima di iniziare però vi voglio sempre dire di guardare questi interattivi con leggerezza, con cautela nelle risposte. Come vi dicevo prima sono dei video di intrattenimento, non sostituiscono mai una stesa personalizzata. Per tutti coloro che vogliono avere un consulto privato, personalizzato con me, negli infobox ci sono i miei contatti e io sarò felice di accontentarvi. Poi questi interattivi sono sempre validi, valgono dal momento in cui li vedete per la prima volta. Quindi ripeto prendiamo tutti i responsi con le pinze perché sono energie generali e non possono risuonare su tutti. Allora pensa una domanda, risposta secca, sì o no, succederà, non succederà, negativo o positivo. Allora la prima variante, per coloro che hanno scelto il cuore rosso, la prima variante, vediamo che argomento si tratta. Qua si tratta di problemi di salute, diciamo di salute intesa però probabilmente si soffre, si hanno delle sofferenze interiori perché vedete esce la carta dell'ammalato. Ok? Però voi sapete, io non so se lo sapete, se ve l'ho detto qualche altra volta, io non tratto mai argomenti di salute nei miei interattivi, mai neanche nei miei consulti. Quindi qua parliamo come problemi di salute nel senso problemi di stare male, di avere comunque una sofferenza interiore, di una qualcosa che non è chiaro nemmeno alla persona che ne soffre. Quindi qua parliamo di l'argomento come se voi avete un malessere così dovuto probabilmente avete perso il lavoro, oppure una delusione d'amore, oppure una serie di depressione perché magari siamo tutti chiusi dentro casa, non possiamo fare più le cose che facciamo. Insomma comunque c'è uno stato di malessere in cui non è chiara la situazione, ci si sente un po' affaticati, ci si sente un po' così con energie non molto forti. Allora vediamo se la risposta è negativa o positiva. Qui abbiamo la carta abbondanza, l'arcano, il sole, assolutamente sì. Quindi se avete a qualsiasi cosa voi avete pensato e avete questo stato d'animo così diciamo un po' sullo storto, la risposta è assolutamente sì. Quindi sì succederà, si finirà così, è positivo. Insomma la risposta è sì, poi gestitela voi come meglio credete. Allora questa era la prima variante, il cuore rosso. Se vi è piaciuto mettete un like, se vi siete riscontrati iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Andiamo alla seconda variante, la lettera D. Per coloro che hanno scelto la seconda variante, la lettera D, mi raccomando gli interattivi sempre con le pinze. Sono energie generali, non possono risuonare su tutti. Quindi con cautela andiamo al risponso. Per coloro che hanno scelto la lettera D. Vediamo di che domanda più o meno si tratta. Qui abbiamo azioni stupidi, comportamento dissennato. Quindi qui abbiamo, parliamo di qualcuno o qualcosa che noi non riusciamo a capire, qualcosa di superficiale, di snervante, di appunto di dissennato. Ecco, un comportamento delle azioni stupide che hanno magari fatto, qualcuno ha fatto nei nostri confronti, oppure dei comportamenti che ci hanno lasciato perplessi. Quindi potrebbe avere riferimento a una situazione lavorativa, anche a una situazione di relazione, come se qualcuno si è comportato in maniera non, diciamo, in maniera superficiale, non in maniera matura nei nostri confronti. Quindi andiamo a vedere se la risposta alla vostra domanda, a quello che avete pensato voi riguardante a questa variante, la numero 2, la lettera D, se è un sì o se è un no. Qua abbiamo informati meglio, vedete, informati meglio, e abbiamo la carta dell'imperatrice. Quindi la risposta anche qui è sì. Quindi sì, positiva, si farà, però vi dà il suggerimento, gli angeli del cuore, vi dicono comunque è sì, però voi informatevi meglio nella situazione di cui avete chiesto. Allora, anche qui, meno male, abbiamo un bel sì. E questa era la seconda variante. Se vi è piaciuta mettete un like e se non vi siete ancora iscritti al canale e mi fa piacere farlo, fatelo, che io ne sarei felice. Il canale ha bisogno di voi per crescere. Variante numero 3, il cuore giallo. Benvenuto a chi ha scelto la variante numero 3. Mi raccomando, gli interattivi, prendetele con le pinze. Sono energie generali, non possono risuonare su tutti. Allora, pensate alla vostra domanda. Chi ha pensato alla domanda del cuore giallo numero 3. Vediamo di che domanda più o meno si tratta. Qui parliamo di un nemico, di qualcuno che a noi ci ha fatto soffrire, di qualcuno che si è comportato male nei nostri riguardi. Parliamo di un nemico, parliamo di qualcuno che ha invidia per noi, che ha assio o comunque un odio nascosto. E soprattutto parliamo di un rivale o una rivale. Quindi questa domanda ha a che fare con questa cosa. Voi poi vi riconoscete. Ovviamente se vedete che la situazione ha attinenza con quello che avete domandato, andate avanti, se no cambiate variante. Allora, vediamo la risposta. Che di aiuto agli altri è il diavolo. Allora, qui purtroppo la risposta è no. Perché comunque il diavolo è sempre un'energia negativa, in questo caso di una domanda di assenso o di senso. Quindi il diavolo è un'energia negativa che è associato con il nemico e con, chiediamo aiuto a qualcuno, ad altri. Vuol dire che la risposta è no e gli angeli ci suggeriscono appunto di chiedere aiuto, di rivolgerci a qualcuno che può aiutarci. Questa era la terza variante, il cuore giallo. Allora, benvenuti a chi ha scelto la quarta variante, il cuore verde. Allora, la prima carta corrisponde a, diciamo più o meno al senso della domanda, a individuare se la domanda è quella che avete fatto più o meno voi. Mi raccomando, gli interattivi sono energie generalizzati, prendetele con le pinze. E ovviamente se volete sapere di più su una situazione, negli infobox ci sono i miei contatti e potete anche chiedere un consulto personalizzato. Allora, pensate alla vostra domanda, se sì o se no. Vediamo di che si tratta. Qui ci parla di speranza, di attesa, di sogno e di, diciamo, una situazione di qualcuno che sospira, desidera che si avveri un qualcosa. Va bene? Quindi se avete fatto, avete pensato a una domanda che ha a che fare con l'attesa, con la speranza, con l'apprensione, insomma, con il desiderio di ottenere qualcosa che sognate in maniera molto, allora questa era la parante giusta. Vediamo il risponso. Purtroppo il risponso è no. Infatti la ruota della fortuna è ovviamente una carta alta allenante. Quindi, sapete, la ruota gira, una volta gira bene, una volta gira male. In questa situazione, in questa cosa che voi avete desiderato, che pensate che si possa avverare, purtroppo la risposta è no. Quindi la variante numero 4, mi dispiace, la risposta è no. Allora, se vi è piaciuta e vi siete ritrovati, vi ripeto, mettete un like, iscrivetevi al canale. Ovviamente io lo ripeto per ogni variante, perché ogni persona sceglie una variante, si presume una. Se poi le avete scelte tutte, mi dispiace ripetervi le stesse cose, ma comunque il senso è quello. Allora, variante numero 5, il cuore azzurro, mi raccomando, interattivi sempre con le pinze. Allora, vediamo che tipo di domanda è. Allora, qui si parla di intimità, di privacy, anche di un desiderio di voler stare con una persona, la voglia di rivedere una persona, la voglia di avere un contatto fisico, anche un incontro d'amore con una persona che abbiamo nel cuore. Allora, quindi andiamo a vedere la risposta. La risposta, allora, la risposta è dubbia, perché diciamo che la carta della luna potrebbe essere un no, però questo no non è per sempre. Ecco, è un no che però nel prossimo futuro potrebbe anche diventare un sì. Allora, questa era la variante numero 5, il cuore azzurro. Se vi è piaciuto, ripeto, mettetemi un like. Se vi siete ritrovati in qualche modo e volete iscrivervi al canale, mi farà piacere. Variante numero 6, numero 8. Allora, come ho detto a tutte le altre varianti, prendete le interattivi con cautela, solo a scopo di intrattenimento. Per chiunque voglia una lettura privata, personalizzata nei miei contatti, ci sono le mie informazioni. Allora, vediamo di che tratta questa domanda. Tratta di allegria. Ecco, quindi voi avete fatto una domanda. Se voi avete fatto una domanda che ha a che fare con il riavvicinamento di una persona cara, oppure con il rivedere degli amici, dei parenti, un amore che non si vede. Insomma, con una situazione di allegria tra amici e in famiglia o anche in amore, questa è la domanda, questa è la variante giusta. Allora, andiamo a vedere se sì o se no. Qua ci parla di opportunità e del mago. Quindi, assolutamente sì, perché comunque la carta del mago è un assenso, una carta di azione immediata, di un inizio, quindi è positiva, è un sì. E le nuove opportunità, ovviamente, sono sempre positive, perché si tratta di cose che avvengono a breve tempo. Quindi qua la risposta era sì. Ripeto, se vi è piaciuta questa ultima variante, vi siete riscontrati, mettetemi un like. Se vi è piaciuto il mio video e vi volete iscrivere al mio canale, ve ne sarò grata. Allora, queste erano le sei varianti. Io spero che questo video veloce e un po' particolare per quello che sono i miei video normali vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, fatemelo sapere nella community, ovviamente con qualche commento. Va bene? Io vi saluto e vi ringrazio di essere stati con me. Al prossimo interattivo. Ciao!